6x0 è giusto 0 te lo dico a cuorleggero 6x1 è proprio 6 e lo dico a lui e a lei 6x2 ecco 12 sbagliare non si può 6x3 fa 18 il geometra farò 6x4 24 com'è agile il cerbiatto 6x5 ecco 30 la luma che è troppo lenta 6x6 fa 36 tanti baci ti darei 6x7 42 le mie mani nelle tue 6x8 48 ho la febbre come scotto 6x8 48 vado a letto sono cotto 6x9 54 io non sono mai distratto 6x10 fa 60 uno balla e l'altro ganta 6x10 fa 60 uno balla e l'altro ganta